Prosegue in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati l'indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale. Il CETRI TIRES in audizione in Commissione Cultura alla Camera, ma che cos'è la didattica sostenibile? Siamo onorati di aver potuto esprimere tutto quello che noi realizziamo nelle scuole di ogni ordine e grado, dove in modo coinvolgente invitiamo i bambini a entrare in contatto con quelli che sono i temi dell'ambiente, della tutela, quello che è il discorso della biosfera, però in formato giocoso, con dei format accattivanti, con il Pinocchio, il Grillo Parlante Green e tanti amici, anche il metodo di Grinopoli del professor De Feo. Il patrimonio culturale può essere una delle piattaforme di innovazione più sorprendenti e ricche che si possano immaginare. Una visione della cultura estremamente settoriale è limitata, infatti, è la peggior strategia che si possa scegliere. Quali sono i progetti attualmente in atto? Allora, quello che sta dando più grandi soddisfazioni sicuramente è proprio nel cuore di Parma. Una scuola, gli studenti dell'Istituto Rondani di Parma hanno realizzato questi 60 metri quadri, si chiamano un modulo eco, è stato anche premiato dalle mani del Presidente del Senato Grasso l'anno scorso e in sei mesi sono stati realizzati 356 eventi, quindi 60 al mese, aperto a tutta la cittadinanza, di ogni colore, di ogni simpatia. A livello europeo si discute infatti da anni sul rapporto tra produzione di valore economico e sociale e cultura, ovvero la capacità della cultura di produrre valore economico e sociale, non solo guardando il settore specifico, ma guardando a come la cultura si interfaccia con le altre politiche. Nel corso dell'audizione avete parlato anche del futuro dell'istruzione tra 20 e 50 anni. Qual è questo futuro? Allora nel capitolo settimo del libro del nostro professor Rifkin, che è la terza rivoluzione industriale, si delinea proprio il futuro dell'istruzione. Già in Finlandia stanno sperimentando, il 20% delle scuole finlandesi non studiano più per argomenti, ma proprio per il fatto che siano trasversali tra di loro. Di solito noi siamo abituati alle singole materie, tutti noi abbiamo studiato storia, geografia, ogni materia matematica separata tra di loro, mentre invece in futuro si studierà per argomenti, quindi saranno tutti trasversali. Ed è proprio questa la richiesta che avete fatto alla Commissione, introdurre una materia ambientale. Come da bambini noi avevamo l'educazione civica, è giusto che nelle scuole di oggi, con le problematiche che ci sono, i cambiamenti climatici, almeno le nuove generazioni, anche perché noi 40-50 anni gli stiamo lasciando un mondo peggio di come l'abbiamo trovato, che almeno loro crescano magari in un mondo più pulito. Grazie a tutti!